Juventus Torino VSAC Milan Coppa Italia 20 marzo, 2012 Selmkensie Selzer Mkensie Autor, di, punto, Selzer, trattino, Mkensie Il mio suggerimento, vincete per il Torino Martedì il primo incontro di ritorno del semifinale della Coppa Italiana è sul programma Due gruppi best-plazierten della serie incontrano a Juventus Turin e a C-Mailand l'uno sull'altro nello stadio Turin Olimpico Nella prima gamba la, vecchia signora, è venuta alla vittoria 2-2.1 un po' come una sorpresa in modo che lei un poco più avere semplicemente questo incontro di ritorno Tuttavia, dobbiamo considerare, che il milanese gioca attualmente molto bene e essi sono quel modo dopo tre vittorie di campionato In conseguenza quattro punti nel comando sui secondi arrivati Juventus Benché essi hanno creduto solo un punto nei duelli reciproci e essere più precisi a casa Mentre essi erano raccogliendo una sconfitta 2-2.0 al Torino L'inizio, 20 marzo, 2012, ore 20.45 Tutto questi questo anno che i successi di Juventus in duelli contro a C-Mailand non possono essere in questo gioco di coppa di una grande importanza Perché gli ospiti vogliono giocano a un poco più in modo offensivo per la prima volta questo tempo Perché essi gli sono forzati dopo il risultato in stadio San Siro Allenata con te hanno tuttavia i buoni giocatori Che oppongono tale tattica disposta del milanese possono molto bene e hanno essi provato che questo al fine settimana scorso molto bene Quando essi hanno ottenuto un 5-2.0 vince via contro la C-Florencia nell'incontro obbligatorio Questo era cioè la vittoria più convincente degli abitanti del Torino in questa stagione Ma anche un molto importante uno perché è stato creduto dopo che quattro tira a conseguenza La serie dell'invincibilità di Juventus in questa stagione è stata continuata e quindi essi sperano Rigtli che rimarrà così anche dopo questo duello contro a C-Mailand In questo modo essi hanno voluto sicuro lo mettendo per se stessi nel finale perché essi già hanno il comando dal primo duellate Raggiungere questo, essi devono dedicarsi alla difesa al massimo e così l'allenatore ha annunciato con te quello lo agli stessi quattro che difendono giocatori come alla Firenze Se la volontà procede mentre eseguirà alcuni cambiamenti al centrocampo e all'attacco esattamente piace l'obiettivo, in cui Storari sopporterà questo tempo La ferita Barzagli e la castagna dolce saranno cancellate Lista a tesa Juventus, Storari, Lichtener, Caceres, Bonucci, De Ceglie, Giaccherini, Pirlo, Marchisio, Padoin, Borriello, Del Piero A differenza di Juventus il milanese deve giocare molto più dedicateli questo incontro, se essi vogliono assicuro di venire ulteriormente per se stessi Questo significa che essi devono ottenere due colpi almeno e il numero degli obiettivi che saranno ottenuti anche aumenterà a seconda dello sviluppo della situazione forse Dipenderà moltissimo dal loro gioco nella difesa che attualmente è nella forma superiore Essi non hanno raccolto nessun obiettivo contro cioè poiché tre campionati girano in sequenza ma, questo tempo, essi giocheranno sicuramente molto più rischili e difficilmente è quel modo per aspettarsi che essi riescono a mantenere l'obiettivo personale completamente L'allenatore Allegri non ha abbiate fatto in modo regolarmente che qualsiasi grande scelta come loro piace esattamente i giochi precedenti in modo che egli deve sui suoi aggressori volendo fare un buon lavoro contate Però, essi hanno celebrato che un 2-2.0 vince via alla Parma al fine settimana scorso e l'esperto Ibrahimovic si è incontrato di nuovo una volta Questo tempo, il giovane El Saharawi lotterrà società all'inizio dell'attacco di nuovo Dopo la ferita di Pato, Cassano e Robino questo giocatore giovane rende uso molto bene della sua possibilità ottenuta Abate, Nesta, vuole ancora il boa cancellato a stento, Flamin, Strasser e Merkel Abate, Nesta, vuole ancora il boa cancellato a stento, Flamin, Vnacnner e Knacnner Lista tesa il Milano, sbaglio abbiati, Zanbrutta, Mexes, Tiago Silva, Mesba, Van, Nocerino, Aquilani, Emanuelson, Ibrahimovic, El Saharawi Il gruppo dal Torino entra nell'incontro di ritorno del semifinale della Coppa Italiana sulle ali del grande trionfo di campionato alla Firenze In modo che essere dell'opinione, che questo è un motivo aggiuntivo, restituirà Serie A 1 appena come buon gioco da cui contro i leader di tavola correnti Questo è così in questo modo essi nasconderanno il comando il primo duello quando essi ha celebrato una vittoria 2-2.1 al Milano Grazie 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 Grazie